freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance adesso inviterei sul palco spottino ovvero paolo valzania che ci fa uno di quei talk in cui si riprendono cose dette in passato e si dice vi avevo detto così dieci anni fa vi avevo detto così e poi com'è andata paolo dall'altra parte della barricata dieci anni fa sono venuto al romagna camp forse romagna camp forse romagna camp allora dieci anni fa vengo a romagna camp e non sono un freelance lavoravo in una grossa multinazionale a conduzione familiare i classici paradossi italiani ebbene sì ma proprio i fratelli i figli i nipoti vabbè non so dire allora quello che volevo dire avevo già un sacco di amici conoscevo il trio bertoli farabegoli diegoli volevo dire a chi faceva il freelance dato che l'euro è stato prima guardate quando vi relazionate con una grande azienda non fate queste cose qui perché io lo faccio io sui miei fornitori vi tratto come dei fornitori quello che ho voluto raccontare dieci anni fa sono le caratteristiche per cui le grandi aziende vi mangiano vi spolpano e vi buttano via e prendono un altro sono tornato freelance da due anni dopo aver lavorato sei l'ultima esperienza sei anni intangible e sono tornato freelance e come dicevo prima con alessandra come buttarsi nell'acqua ghiacciata diceva bellissimo la partita iva spacco tutto imparato sei anni di ux sono tornato a fare il grafico però il grafico di un certo tipo intangible mi occupavo di illustrazione icone quindi avevo un settore molto molto se vogliamo ad oggi potrei avere una nicchia che però è molto molto complessa molto difficile o solo tre figli sono separato quindi un po devo campare e quindi faccio il grafico tornato freelance grafico dopo dieci anni e detto cacchio non ho fatto quelle slide mi sono ascoltato e di cui il titolo della presentazione e devo dire sì mi sono ascoltato anzi aggiungerei delle cose purtroppo mi ricordo a memoria ma non perfettamente diego le mi fece una domanda bellissima verso la fine dell'intervento ma quella è andata persa anche perché chiesi di non registrare di non avere foto perché effettivamente io non ero un freelance ma un dipendente e questa è andata persa ma mi rimane in memoria che era un'osservazione giusta spero che sia una di queste primo impatto cioè lavorare con la grande azienda conta molto quello che ho visto quando lavoravo nella grande azienda era ho visto addirittura gente che noleggiava la macchina perché andava nella multinazionale arrivava gente che noleggiava la porsche 910 ovvio adesso non dico da freelance di arrivare a noleggiare una macchina per andare nell'aziendina però non è neanche una questione di spocchia c'è sicuramente l'educazione però il primo impatto che non è solo buongiorno sono spot e dicono bene può andare perché ho questo nome qui no no è una serie di cose per me il primo impatto è arrivarci anche preparato cioè devo conoscere l'azienda quindi sono strumenti faccio un po di bia e cioè di business intelligence e dico questa azienda qui cosa fa cioè è in target per me quello che io personalmente come spot oggi cerco è un certo tipo di azienda che magari al proprio interno ha un numero di dipendenti magari un ufficio che si occupa di marketing quindi non è mi dispiace dirlo l'azienda da 20 30 persone cioè deve avere un certo numero quindi già diciamo tagliamo un po il mio range lo restringiamo quindi quello che consiglio è arrivare pronti al primo impatto e poi ovviamente adesso altra parolina inglese buttiamo dopo l'incontro il famoso recap cioè come te lo coccoli come te lo vizi per il dopo questo per me fa parte di questo cioè e ho visto che funziona arrivare a presentarsi ovviamente sapendo chi è il tuo interlocutore altra cosa del primo impatto ed è un esercizio c'è un esercizio è un valore che però anche a me a volte non funziona avere una certa sensibilità la famosa empatia conta cioè capire quasi subito o dopo diciamo una prima mezz'ora dove si va a parare è difficile sapere il risultato però si deve aver capito chi è davanti e a volte posso dire che ho avuto dei colloqui di lavoro che sono durati cinque minuti proprio non ci siamo presi lui mi ha detto una cosa per cui è stato bello ciao quindi insomma bisogna coltivare forse questa skill il primo impatto va preparato affrontato poi raccolto quando sei lì ovviamente vi auguro di avere un'empatia che vi consenta di raccogliere percepire chi avete davanti quello che dicevo 10 anni fa è quando andata nella grande azienda sappiate che ci sono i soldi devono avere la percezione che voglio risolvete un problema il reale costo non è un problema tanto se lo giocano con altri fornitori se lo giocano con altri preventivi quindi vi expensive per favore cioè sappiamo minimamente allora abbiamo capito il costo orario avete il minimo avete un obiettivo mensile avete un obiettivo annuale comunque stateci sopra quel famoso margine che è il fastidio che può essere insomma a volte lo capirete purtroppo in corsa a volte lo capirete nel famoso first impact incontrerete responsabile marketing che viaggia su certi livelli altri invece più spontanei e magari entrambi hanno comunque insomma dei modi di ragionare completamente diversi ecco questo be expensive è per dirvi qual è la mia formula perché dieci anni fa dicevo come fate a stabilire il prezzo e il prezzo va rispetto all'azienda è sì orario è sì per me degli obiettivi di vita e di business e di denaro che voglio avere al mese capire che all'interno ci sono casini miei casini del cliente casini del lavoro che lo sbaglio la famiglia quello che è va ragionato in quel prezzo lì e adesso vi darò un esempio di quello che è il mio lavoro o quello che avrei piacere diventasse ecco la formula il mio lavoro è il mio prezzo elevato al cliente l uguale p elevato alla c cos'è il lavoro è il mio prezzo costo più il mio valore quindi quanto vale cioè il prezzo finale per me è elevato a lui perché se vado se Alessandra mi chiede guarda per la newsletter hai tempo due mesi fammi quelle illustrazioni che mi avevi visto oppure mi servono in calligrafia fammi le te però sei mesi di tempo Alessandra la conosco faccio un certo tipo di prezzo vado in una multinazionale non ho il prezzo che faccio ad Alessandra sia giusto che io qui abbia una marginalità anche perché i rischi sono molto più grossi ma assolutamente molto più grossi magari il lavoro è ancora più semplice del tuo ma qui dovrò parlare con responsabile del settore responsabile con un copia esterno con un settore grafico parlerò con 20 persone per fare una cosa non può essere lo stesso prezzo quindi per me il lavoro è il prezzo elevato al cliente grazie